Da dove nasce, Matt, l'abuso di potere? Innanzitutto c'è una responsabilità tra chi fa l'abuso di potere e chi lo riceve, in quanto da una parte c'è un non riconoscere determinati diritti a chi viene abusato e chi è abusato da questo diritto non riconosce i propri poteri, non riconosce i propri diritti. Quindi c'è un'ignoranza da una parte e dall'altra, c'è una corresponsabilità per la non conoscenza di quelle che sono veramente le nostre radici, le nostre identità e i nostri poteri inesplicati, decisionari rispetto a quelli che sono veramente i cammini che vogliamo intraprendere, come ad esempio la decisione di avvallare o meno un sistema politico, economico che di fatto non sta facendo i nostri interessi. Quindi la mancata conoscenza della vera natura delle cose, il vero effetto da dove deriva veramente la politica attuale, il sistema se vogliamo corrotto attuale, è una delle motivazioni che induce da una parte, come ho detto, l'abuso di potere e dall'altra lo fa accettare come cosa inevitabile. Possiamo ipotizzare o in qualche modo stabilire da dove deriva questo potere anche della politica che legittimazione ha. Viene sempre dal consenso comunque esplicito o implicito dato dalla popolazione. Se noi guardiamo qualcosa che sta avvenendo, che può essere compreso come crimino meno a danni della popolazione, un danno fatto alla popolazione, se noi lo comprendiamo dobbiamo necessariamente fare qualcosa. Quando la legge diventa giustizia, la resistenza è un senso. Quindi quando non si agisce, quando non si comprende, quando si viene indotti, come attualmente succede, a una percezione distorta delle realtà, si accetta un qualcosa perché si pensa appunto che non si può fare nulla. Ecco, ci può fare un esempio pratico, concreto? Ad esempio, la legge vaccinale è una legge che viola tutti i diritti inalienabili, viola la Convenzione di Ginevra, viola tutti quelli che sono i presupposti per veramente una cura o comunque un'imposizione. Non c'è una ragione per questa legge, per applicare questa legge, eppure di fatto viene applicata anche in modalità coercitive, si fa comunque una pressione sulla famiglia a livello sia economico, si dice che comunque i bambini vengono espropriati dai genitori proprio se non fanno certe cose, comunque ci sono tante situazioni che effettivamente risultano violente. Si fa molto anche leva sull'aspetto economico, a livello di sanzioni direi che è quasi un ricatto perché secondo me la leva economica è quella più forte, no? Assolutamente, però tra l'altro è facile capire che dal momento in cui tu metti una multa e poi pagata la multa il bambino può andare a scuola, vediamo che c'è… Cioè è proprio una contraddizione alla base, cioè i termini non coincidono? Le contraddizioni sono, diciamo, lungo tutto l'arco della storia, sono state superate con una certa metodologia. Prima viene messa in circolazione un'idea che può essere non giusta o comunque squilibrata, ma fatta passare per buona, cioè sempre presentata dal lato positivo della motivazione, che piano piano diventa consuetudine, ma è fallata fin dall'inizio. Una volta che è diventata consuetudine se ne propone un'altra, se ne propone un'altra e così viene costruito tutto un castello fino ad arrivare alla contraddizione totale, perché adesso parlavamo della legge vaccinale per fare un esempio, che praticamente esclude i risultati del processo di Norvigimberga, che è stato chiarissimo da quel punto di vista lì, non si può imporre nulla dal punto di vista medico.